Siamo nello stand Milionico a Expo Dental e scopriamo un grande marchio con un rapporto qualità-prezzo per il riunito davvero eccezionale. Ne parliamo con Mariangela. La Milionico è un'azienda di produzione italiana che ha una storia di vent'anni nell'ambito dontoiatrico e lavora sia sul territorio nazionale che in ben 30 paesi nel mondo. Essendo un'azienda di produzione ovviamente del territorio riusciamo anche ad essere molto competitivi perché la produzione viene svolta interamente in azienda facendo molta attenzione a quelli che sono i materiali che vengono utilizzati. Infatti i nostri riuniti hanno materiali d'eccellenza come il poliuretano, l'acciaio, il vetro, quindi l'attenzione per la qualità è al primo posto, le nostre bacinelle sono in ceramica e il rapporto qualità-prezzo è buono perché ovviamente potendoli produrre direttamente noi abbiamo una gestione di quella che è la produzione che viene ottimizzata. Sia per garantire velocità e servizio al cliente sia per garantire che la miglior tecnologia venga adoperata e utilizzata in maniera semplice con un buon apporto di funzionalità e risparmio. Ecco, per un dentista che inizia e apre uno studio siamo già con un piede in positivo. Assolutamente, tra l'altro noi offriamo anche 4 anni di garanzia proprio perché siamo sicuri di quelle che il nostro know-how, le nostre competenze, frutto appunto dell'esperienza del nostro titolare in pregresse come tecnico, per 15 anni è stato appunto un tecnico di riunite odontoiatrici, ha trasferito tutte le sue competenze sui nostri riuniti. Noi siamo molto attenti sia alla formazione in ambito giovanile, infatti tantissimi nostri riuniti sono anche stati installati nelle università in tutta Italia proprio perché ci teniamo a investire su giovani e a far conoscere giovani. Quello che è un prodotto è sicuramente interessante sia per estetica ma soprattutto per caratteristiche tecniche. Alla fine bisogna far capire che l'estetica è importante e non bisogna tralasciarla ma la funzionalità di un mezzo, che è un mezzo di lavoro, quindi deve garantire insomma durevolezza, comodità, deve essere un mezzo affidabile. La cosa più importante è che questo può essere fatto solo se un'azienda investe sulla tecnologia e lo sviluppo, cosa che noi facciamo più o meno creando un modello ogni anno, ogni paio d'anni in base alle esigenze. Infatti qui in Fiera abbiamo portato per esempio un nuovo modello nato dalle esigenze di alcuni studi di avere un riunito per esempio solo per l'ortodonzia. Qui abbiamo visto sul digitale punta tutto l'industria dentistica, voi siete un pezzo avanti? Noi siamo un passo avanti e cerchiamo di essere sempre avanti. Il digitale è importantissimo sia per quanto riguarda le attrezzature che sono negli studi odontoiatrici perché noi forniamo anche attrezzature perché ovviamente nel momento in cui si fornisce un prodotto si cerca di dare un servizio completo. Quindi tutto quanto riguarda il digitale, sistemi media, RVG, radiografia, radiologia, tutto quanto, ma anche digitale nel senso commerciale. Sul nostro nuovo sito che è www.milionico.net potrete trovare un configuratore dove potete giocare e divertirvi a configurare i riuniti. Quindi capire quali sono gli accessori che potete installare sui nostri prodotti, qual è la condizione, la configurazione ottimale che fa per voi perché noi abbiamo tre linee di prodotto configurabili in quattro diverse maniere. Quindi basta scegliere il prodotto che fa per voi, per le proprie esigenze, scegliere qual è la forma che preferite dare al vostro riunito. Quindi se è riunito normale, quindi quello con i cordoni classici, la tecnologia Sprido, oppure eventualmente il sistema cordoni pendenti, oppure se preferite associare a riunito un carrellino, quindi avere la poltrona più il kart, che abbiamo anche di lì, o altrimenti anche il kart stand alone. Quindi diciamo massima flessibilità per accontentare tutte le esigenze. Milionico fa anche sterilizzazione? Assolutamente sì, da circa un anno abbiamo lanciato la linea Milionico Sterilization Line, con una serie di autoclavi disponibili ovviamente in varie dimensioni, che sono autoclave all'avanguardia. Anche qui l'importanza dei materiali utilizzati, lo studio del giusto apporto tecnologico alle apparecchiature, ci ha permesso di avere un prodotto altamente economico, vantaggioso. Penso un po' che fa addirittura un ciclo di sterilizzazione completo in soli 35 minuti. Quindi attualmente è una delle macchine più veloci in commercio, con solo 400 ml d'acqua, perché ha il sistema di generazione di vapore integrato. Diversi dispositivi di sicurezza, controllo dell'acqua in ingresso, possibilità di essere collegata alla rete idrica e portello che si chiude automaticamente e si autoregola. Insomma, una serie di plus che sicuramente potranno essere molto comodi sia per il medico ma anche per gli assistenti, che ovviamente poi sono quelli che entrano più a contatto con le attrezzature. Un nuovo prodotto, frutto di storia ed esperienza, quindi vi invito a venirlo a scoprire anche questo sul sito milionico.net Grazie.